Il vibrato è una tecnica che viene usata per dare espressività al suono e far risaltare alcune note. Per iniziare a vibrare assicuriamoci di avere braccio e spalla rilassati. La mano, il polso e l'avambraccio devono essere collocati su un'unica linea, in modo da scaricare bene il peso sulla carne del polpastrello. A questo punto, facendo perno sul dito, compiamo un ampio movimento oscillatorio che deve partire dall'avambraccio. Attenzione! Mano e avambraccio devono muoversi come un unico blocco meccanico. Nel corso dell'oscillazione l'altezza del suono varia, appena sotto e appena sopra la giusta intonazione. Dobbiamo saper controllare l'ampiezza e la velocità del movimento, sapendole variare a nostro piacimento. Oltre a migliorare l'intonazione, il vibrato rende più semplici i cambi di posizione. È importante esercitare il vibrato su tutte le dita e su tutta la tastiera. Consiglio di suonare scale a valori molto lunghi, aiutati da un metronomo. Anche esagerando il movimento oscillatorio, per acquisire meglio la tecnica. Il vibrato non va usato in maniera costante, ma con parsimonia, per suscitare interesse su note che riteniamo debbano essere messe in risalto.